La chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Mariangela Sicilia, il destino di Magda è quello delle roine pucciniane, un destino di sconfitta? Ma il destino di Magda è sì certo quello delle roine pucciniane, in un certo senso è un destino di sconfitta perché lei non si sente all'altezza di poter essere la donna di Ruggero, perché lei non è una donna semplice, non è una donna che non ha avuto altre esperienze, che quindi non è pura, come scrive la madre di Ruggero nella lettera del terzo atto. E la lettera della madre dà l'input a Magda di fuggire da questa storia d'amore idilliaca di soli tre mesi con Ruggero. Letta in chiave moderna non è una sconfitta, io leggo Magda come una donna emancipata, forse la prima femminista che troviamo all'interno dell'opera, una donna che decide per se stessa e che non ha bisogno di un uomo per sentirsi completa. Dietro il personaggio di Magda si intravede in controluce quello di Violetta Valery. Magda sicuramente sì, ricorda Violetta, ricorda Mimi, ha molte sfaccettature, però siamo catapultati in un altro contesto, e qui è lei che è padrona di se stessa, decide di tornare a una vita vivace perché la rappresenta di più rispetto a questo amore. Ruggero parla di matrimonio, parla di figli, parla di una convivenza con la madre in campagna, con la madre di lui, e questo spaventa molto Magda, e soprattutto credo che sia evidente anche all'inizio del terzo atto, prima che lei prenda la decisione, sia evidente anche la noia, questo sentimento che all'inizio sembrava così frizzante nel secondo atto, già all'inizio del terzo atto notiamo come anche musicalmente il ripetersi delle melodie, del duetto tra Magda e Ruggero, ci fa pensare proprio all'esaurimento di questa infatuazione, che quindi lei ha bisogno d'altro, e da parte di Ruggero invece ha bisogno di concretizzare, quindi di rendere l'amore ufficiale e quindi di progredire e di arrivare al matrimonio. Per Magda invece è sufficiente così, non è questo quello che vuole, e lo capisce quando arriva la lettera della madre. Nel caso di Violetta arriva Germont a dire basta, questo matrimonio non può essere approvato, e in questo caso è Magda che dice no, io non sono quella che tu vorresti, ti sei inventato una donna che io non sono, io sono tutt'altro. Grazie a tutti.